buongiorno allora visto che mi arrivano spesso delle email sulla meditazione e sulle domande su delle domande specifiche ho pensato di fare un video visto che le domande sono sempre molto simili e sicuramente può aiutare a questo video può aiutare tantissime persone che magari hanno le stesse domande quindi una delle prime domande è sempre come gestire l'ansia se la meditazione può aiutare l'ansia io di solito quando mi arrivano mail sull'ansia o attacchi di panico rispondo sempre che sicuramente portare nella propria vita regolarmente giornalmente delle pratiche che vanno a riequilibrare il sistema nervoso come lo yoga nidra come uno yoga molto tranquillo come l'ignoga per esempio pratiche come un rilassamento qualsiasi che può essere anche un training autogeno sicuramente aiuta se fatto giornalmente ripeto queste cose funzionano se fatte regolarmente se le facciamo una volta ogni tanto non accadrà nulla quindi fatte regolarmente aiutano tantissimo mi viene chiesto cos'è la meditazione si legge talmente tanto sulla meditazione che è un qualcosa che rimane molto astratto quando io insegno la meditazione in realtà insegno il passo prima della meditazione che è la concentrazione poiché la meditazione è un qualcosa molto difficile da non si può insegnare da come l'ho conosciuta io quindi vado spesso bisogna creare delle basi e la base per la meditazione oltre alle alla postura quindi alle posizioni al respiro e al pratiara quindi andare verso l'interno è comunque la concentrazione quindi andare a lavorare sulla concentrazione io ho tantissime meditazioni che faccio due volte a settimana sia su instagram che youtube che su facebook vanno a lavorare sulla concentrazione e sulla consapevolezza quindi andare a imparare a conoscere quanto riusciamo a concentrarci perché non ci concentriamo mi viene detto io comunque ho tantissimi pensieri è normale quando io anche recentemente in un video ho parlato del fatto che quando io sono andata a fare tanti anni fa il corso di vipassana che sono dieci giorni di meditazione di silenzio costanti la cosa che anche se venivo già da tanti anni di meditazione la cosa che mi ha fatto più impressione che nel momento di silenzio totale esterno è come se il volume dei pensieri aumentasse e questo accade quando creiamo silenzio quindi se andiamo a fare una pratica come magari lo yoga nidra come la meditazione la concentrazione quindi è un qualcosa di normalissimo e il fatto di non riuscire a controllarli perché non abbiamo una mente allenata quindi andare a lavorare con la concentrazione ogni giorno aiuta ad allenare la mente per andare a controllare questi pensieri e sicuramente gli esercizi che facciamo insieme nella concentrazione che sono quelli di non solamente rimanere concentrati ma andare a osservare quali sono i pensieri che ci portano via dalla concentrazione è un atto di consapevolezza molto grande che andiamo a capire perché il pensiero è ciò che crea la nostra emozione quindi il nostro stato d'animo quando ogni tanto ci sentiamo in un certo modo e non sappiamo perché è perché il 95 per cento dei nostri pensieri sono inconsci quindi il fatto di andare a fare questo lavoro di consapevolezza sul pensiero automatico che ci toglie dalla nostro punto di concentrazione ci rende consapevoli di perché abbiamo certi stati d'animo e più andiamo a fare questo esercizio e più diventerà più facile andare a controllare i nostri pensieri in più se andiamo a riequilibrare il sistema nervoso abbiamo anche meno reazioni e quindi quando andiamo a fare questo lavoro andiamo a farlo in modo abbiamo più tempo perché non andiamo in uno stato reattivo ma siamo in uno stato di equilibrio e quindi possiamo avere il tempo di scegliere il prossimo pensiero la prossima risposta anziché reazione alla vita e quindi in questo qualcosa di molto importante e nei prossimi giorni uscirà non so chi l'ha fatto con me se vi ricordate i 11 giorni di meditazione che abbiamo fatto in diretta su facebook dopo capodanno quest'anno e nei prossimi giorni uscirà il ho rimontato il corso e quindi uscirà come prodotto insomma per poter rifare questi 11 giorni di meditazione in cui ci sarà ogni giorno sia una parte pratica di meditazione che una parte teorica così da andare a capire che cosa accade veramente nella nella pratica della meditazione cosa accade sul nostro sistema nervoso sul nostro cervello e sicuramente è una buona base per iniziare a meditare o continuare a meditare quindi grazie mille e ciao buona giornata